Ciao a tutti, salve a tutti ragazzi e buona vista al vostro ectorelio della Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela, in spagnolo. A tutti ragazzi, allegria! Guardate qui, mi sono fatto il vaccino, al braccio sinistro, perché è partito democratico! Vabbè dai, finalmente mi sono vaccinato, io voglio dire, l'unico effetto che ho provato sono un po' di dolorini al braccio, qualche donenzimento al braccio, però sto bene e quindi io mi vaccino, fatelo anche voi. Ho fatto il vaccino Pfizer a Frosinone alla Casa di Salute Fabrizio Spaziani. Voglio dirvi che il servizio è stato molto efficiente, sono stati molto bravi e sono molto contento. Io ho fatto il vaccino che necessita una sola dose, perché ho passato il Covid-19 e poi ci sono anche alcuni vaccini che necessitano una sola dose. D'esempio Johnson, l'ha detto il mio amico Giulio, e saluto, ciao Giulio! Così, così, a presto la vostra ectore, io devo prendere il buono spinoso di Santiago di Compostela in Spagnolo. A tutti ragazzi, vi saluto e vi ringrazio sempre, comunque, forza Lazio! Bella a tutti, belli e brutti, forza azzurri, domani lo farà la mia madre il vaccino, domani faremo un video con lei. A presto e buona la prima!